Da Emilio Migliaccio in diretta dall'Ippodono di Agnano, prima delle due prove di qualifiche riservate ai due anni. Tre concorrenti al Via. Il numero uno è Top Manager Parra, un maschio da Holgersoll e vivacissima par con Guido Sagiomo. Il tre Talita, una femmina da Garden Sport e Antares da Casalla. Il quattro Toy Town Man, una femmina da Yankee Slide e Fletcher B. Assume subito l'iniziativa Toy Town Man, che percorre i duecenti iniziali in quattordici e mezzo. Riduce adesso il ritmo la femmina da Yankee Slide e percorre il quarto iniziale in comunque notevole trenta e mezzo. Si arriva al completamento dei seicento, percorsi in quarantase e mezzo. Toy Town Man, seguita da Talita e chiude Top Manager Parra. Torna in netto vantaggio la leader, una frazione in curva in 15 e 8. Uno, due e qualche spicciolo di 800. Per la femmina da Yankee Slide, allenata da Raffaele Chiaro. Una frazione in 15 secchi, adesso il chilometro in 17,2. Si arriva ai tre quarti di miglio, percorsi in 1,32 scarsi, addirittura un 14,6 sulla retta delle scuderie. Ha perso per strada gli avversari, Toy Town Man. Ancora la curva in 15,3. In solitudine, questa elegante e promettente figlia di Yankee Slide, del signor Remigio Defensa, che va a concludere a media notevole. Sul mio cronometro c'è una misura intorno al 2,2. notevole, staccati nettamente gli altri. Da tenere in grossa considerazione per...